... Tenuta col Dorcia è il main sponsor di Red Line International Film Festival. Conte, come nasce questo binomio per la valorizzazione sia del mondo enologico, ma soprattutto del mondo culturale? Nasce dal fatto che noi crediamo, pensiamo che il vino sia cultura e perciò ecco che iniziative nuove come questa vuole utilizzare, vuole approfittare in modo positivo della notorietà di Montacino, trova in noi una volontà di appoggiare, di sviluppare. Montacino ha una storia lunga ma anche un po' isolata, perché siamo circondati da tanti boschi e per l'appunto portare esperienze da fuori, visione da fuori, come lo può fare questo Festival del Cinema, per noi è molto positivo, costruttivo, ci aiuterà a fare il vino ancora migliore. E ogni suo prodotto sarà degustato al termine di ogni proiezione cinematografica? Sì, sì, il vino è utile per oliare i meccanismi sociali, per cui ecco che nell'intervallo anche delle proiezioni e così via offriremo un bicchiere di vino e speriamo che porti buona ispirazione. Il vino è socialità, così come il cinema è socialità. Assolutamente, per cui ci ritroveremo a Montisi o in Fortezza a vedere questi filmati, queste produzioni e a parlarne assieme con un bicchiere in mano. Antonio Spanò, direttore e cofondatore del Red Line International Film Festival di Montalcino. Antonio, come nasce questo festival? Il Red Line Festival nasce due anni fa. L'idea nasce da Office No. 4, una produzione di Siena, e la Onlus, iniziativa di solidarietà, anch'essa di Siena. Nasce per creare un evento che riportasse il cinema, inteso come luogo di incontro. La sala doveva essere un luogo di incontro e in una città come quella di Montalcino non c'è un cinema operativo in attività e quindi ci sembrava il luogo ideale per far rinascere la passione del cinema e far rincontrare le persone al cinema, in una sala, al Cinema Teatro degli Astrusi. e il festival nasce per portare cinema internazionale di qualità, cinema indipendente, produzione indipendente a Montalcino e dare la possibilità agli autori di incontrarsi e vivere insieme nel borgo con gli spettatori, gli abitanti, i turisti e tutto. Quindi portare cinema di qualità in un paese bellissimo, abituato alla bellezza, all'arte, portare il cinema di qualità dove viene apprezzata la qualità e la bellezza. Quanti sono i film in concorso? I film in cui il festival si articola a due concorsi, cortometraggi e lungometraggi. Sono 17 cortometraggi e 6 lungometraggi. I premi che verranno assegnati dalla giuria internazionale condotta da Paolo Benvenuti, dal regista Paolo Benvenuti, sono tre. Miglior lungometraggio, miglior cortometraggio e miglior documentario. La migliore opera del cinema del reale nei cortometraggi e lunghi selezioneranno il miglior documentario. Le date del festival? Le date del festival sono dal 13 al 16 giugno 2024. Si apre il festival il 13 giugno alle 6 con la cerimonia di apertura. Si articola nelle quattro giornate. Si chiude la domenica alle 18 con la cerimonia di chiusura e assegnazione dei premi. Un festival all'ingresso gratuito? Tutti i film sono a libero ingresso. È una cosa in cui credo, crediamo molto, per non creare barriere. La cultura deve essere accessibile. Tutte le persone hanno possibilità di accedere a tutti i film, a tutte le proiezioni. Non solo questo. Tutti i film saranno sottotitolati in doppia lingua, sia in italiano che in inglese, per dare la possibilità anche agli ospiti di Montalcino e ai turisti di accedere e godere delle opere in concorso.